50 persone senza stipendio, tra amministrativi e orchestrali, è un'attività artistica e concertistica portata avanti grazie ai prestiti delle banche. Sono queste le condizioni in cui si trova a vivere l'istituzione sinfonica abruzzese e con essa anche la società concertistica Barattelli e i solisti aquilani da diversi mesi. Con il cappio della mancanza degli stipendi che si stringe sempre di più attorno al collo e la contraddizione che soldi a loro dovuti per legge ci sono, ma non vengono trasferiti dalla Cipe che l'istanzia alle casse del comune. La denuncia viene dai musicisti dell'orchestra sinfonica abruzzese che sabato scorso, prima di esibirsi nell'ultimo concerto della stagione, hanno letto un comunicato per condividere con il pubblico le continue difficoltà che tutti i lavoratori stanno vivendo. I maestri d'orchestra puntano il dito verso comune e regione, richiamando però anche la loro dirigenza a fare di più. Noi ci siamo attivati da subito e quei fondi 2016, 2017, 2018 ancora non ci sono erogati. Così come non ci sono erogati ancora il 50% dei fondi della regione del 2018, così come mancano ancora altri pagamenti, la perdonanza, il cantine dell'immaginario, cioè noi vantiamo crediti per forse oltre un milione di euro e non riusciamo in nessun modo a venirne a capo e abbiamo i dipendenti che giustamente lamentano le proprie aspettanze. Noi stiamo andando avanti proprio con gli anticipi bancari e se non ci fosse il sistema bancario, in questo particolar momento la Biber, che ci supporta, staremmo in una situazione ancora più grave. Se finanziamenti ci sono, aiutateci a far sì che queste cifre in tempi stretti, lunghi, quello che siano, ma siano certi in maniera tale che non si possa in qualsiasi modo programmare la nostra attività. Ecco, il sindaco dell'Aquila rimanda la palla, diciamo così, la responsabilità all'istituzione sinfonica. Invece come stanno le cose? Le cose stanno così. Il sindaco ci rimanda campo avversario la palla, ma bisogna capire che senza... Lui dice che praticamente mancano dei riscontri, mancano delle documentazioni. Allora, documentazioni sono le fatture quietanzate. Come facciamo a far pagare i fornitori e farci quietanzare le fatture se non abbiamo i soldi nemmeno per sopravvivere?